Un saluto dall'ATG. Della mobilità nei prossimi giorni riaprirà al traffico tra Portuenze, Marconi e Ostienze il ponte dell'Industria. Dalle verifiche svolte è infatti emerso che la struttura non ha subito danni rilevanti dopo l'incendio di inizio ottobre. Lo rende noto il Campidoglio che prevede che il ponte dell'Industria possa essere restituito alla città entro 10 giorni. Il ponte tornerà aperto ai veicoli sino a 3,5 tonnellate. Resterà per il momento chiuso solo un marciapiede danneggiato che quindi non potrà essere utilizzato dai pedoni. Dettagli e aggiornamenti su comune.roma.it e su romamobilità.it. Grazie a tutti.